Io spero vivamente il mio video vi sia piaciuto, spero di avervi non insegnato qualcosa, ma invitato a riflettere meglio su una letteratura non come qualcosa di lontano, ma come qualcosa di molto vicino al volo. Nei prossimi video ho già in mente tanti argomenti di cui parlavi e spero di avervi servirete. A presto e a un passo anche per tutti. Ciao!